Allora ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come sempre, di Calciomercato. Parliamo di una nuova, importantissima sessione, forse la più dolorosa, forse la più complicata, che probabilmente la Roma farà entro le prossime ore. Sto parlando del fenomenale, del fantasmagorico, dell'incredibile difensore Ivan Marcano. Proprio lui, che a quanto pare è ad un passo dal diventare di nuovo un giocatore del Porto. La squadra portoghese, infatti, sembra intenzionata a riportare in patria il difensore classe 87, spendendo all'incirca 5 milioni di euro. Portando quindi nelle casse della Roma una plusvalenza di 5 milioni. E considerando che praticamente lo stiamo vendendo ad un terzo del prezzo con cui abbiamo venduto El Sharawi, sicuramente è una cifra clamorosa, se così possiamo dire. Considerando oltretutto la stagione negativa dello stesso difensore. A parte lo scherzo iniziale. A me dispiace, sinceramente, che l'esperienza di Marcano sia durata così poco e sia finita in questa maniera. Più che altro perché comunque, guardando le sue giocate nella terra portoghese, mi era sembrato un difensore comunque capace, un difensore esperto, un difensore anche capace di trovare la via del gol. Non che gli chiedessi questo con la maia giallorossa, sia chiaro. Però il problema è che non è mai riuscito a dare la giusta sicurezza. Credo che in tutto il campionato abbia giocato bene due partite. Una con la Virtus Centella in Coppa Italia e una contro il Kaia di giocando come terzino sinistro addirittura. Per il resto veramente stendiamo un velo pietoso. Certo, era difficile fare bene in questa Roma. Probabilmente anche se ci fosse venuto Sergio Ramos avrebbe fatto una stagione da 6-6,5 non di più, per esagerare. Però è altresì vero che comunque se la Roma ha preso tanti gol e ha fatto prestazioni negative, è anche colpa sua. Che comunque, essendo una riserva, non è che non ha giocato molto, ma non lo ha mai fatto in maniera positiva. Quindi da una parte mi dispiace che sia finita così, dall'altra però ringrazio infinitamente il Porto. Qualora questo affare andasse in Porto, perché comunque ci faremo una plusvalenza non da poco. Soprattutto se nelle ultime ore si sta parlando di una quasi ufficialità del difensore Mancini, che verrebbe alla Roma per circa 25-26 milioni diluiti in 5 anni. Una spesa con prestito, con obbligo di riscatto, che verrebbe appunto diluita in 5 anni consecutivi. Quindi, eventualmente Mancini verrebbe non a sostituire Marcano, ma a sostituire Manolas per il momento. Però, ricordatevi una cosa, se parte anche Marcano, è palese che la Roma prenderà un altro titolare, perché dubito fortemente che col modulo di Fonseca uno tra Fazio e One Jesus sarà titolare. Per me sicuramente questi due giocatori saranno le rispettive riserve dei due titolari. Uno sarà Mancini e l'altro sarà un giocatore con un po' più di esperienza. Adesso il nome è difficile farlo, perché si può dire Bartra, si può dire Alderweald, si può dire Benatia, se ne possono dire tanti. Fatto sta però che, secondo me, l'obiettivo della Roma è quello di tenere comunque Fazio e One Jesus, sia per motivi di mercato, perché non puoi venderli e chi te li prende, e sia perché comunque come riserve non sono neanche tanto malaccio, e sia perché comunque la Roma vuole mettere come titolari un giovane che può crescere e uno di esperienza che possa dargli una mano per il presente e per il futuro. Quindi, ritornando al discorso di Marcano, la Roma comunque farebbe una cessione decisamente indolore, perché se è vero che gli si poteva dare un'altra opportunità, difficilmente l'avresti mai potuto rivendere a una cifra del genere, e sicuramente questi milioni possono servire per sistemare la difesa e per fare quelle cessioni che appunto servono per toglierci gli esumeri dalla rosa-giallorossa. Oltre a lui si parla anche di una cessione di Gonalon, visto che entrambi i giocatori non stanno facendo parte del ritiro giallorosso iniziato questa mattina, e francamente spero che anche per il francese si possa trovare una soluzione adeguata. Magari in patria ha ancora degli estimatori che potrebbero spendere per lui qualcosina, e visto che comunque noi mi pare che lo abbiamo pagato sui 3 milioni, 4 milioni, poco più, potremmo eventualmente fare una plusvalenza anche su di lui, e utilizzare i milioni che ci daranno per poter appunto sistemare la rosa in tutto e per tutto. Detto questo ragazza allora, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'ormai probabilissima cessione di Marcano al Porto, che tornerebbe quindi in patria dopo una sola stagione con la maia giallorossa. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque forza Roma! Ciao ragazzi!